Yo Willers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi, siamo qui tornati per l'episodio numero 2 della nostra Road to Glory con la Minardi qui su F1 Manager 2022 con la Mod 1991, Brazil Grand Prix. Ovviamente se non avete visto l'ultimo episodio, il primo round della serie, il GP di Miami, cliccate in questo momento nell'angolo in alto a destra e recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio. Primo Gran Premio che è andato piuttosto bene per noi, peccato perché siamo finiti ai margini della zona punti, Pierluigi Martini ha conquistato uno splendido settimo posto con il giro veloce, purtroppo nessun punto aggiuntivo, non credo che siano disponibili punti aggiuntivi per il giro veloce, ancora dovremmo teoricamente scoprirlo, ma soprattutto purtroppo settima posizione e niente punti, perché nel 1991 venivano assegnati i punti solo ai primi 6 e quindi ci siamo dovuti accontentare di un ottimo sicuramente risultato, ma di una gara senza alcun punto conquistato. Abbiamo comunque dell'ottimo potenziale, peccato per l'inizio di gara non ottimale, l'inizio di stagione non ottimale per Gianni Morbidelli che già nel primissimo giro di gara si è schiantato e si è dovuto ritirare con la sua vettura, vediamo se riusciremo in questa gara a rifarci e magari a conquistare il primo punto di questa carriera, ci proveremo. Ovviamente io come sempre vi chiedo un mi piace per supportare la Minardi in questa ricostruzione del passato, un commento qui sotto con il vostro pronostico e naturalmente se siete nuovi sul canale io vi chiedo come sempre, perché fa veramente una differenza immensa, un'iscrizione e nel caso cliccate anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Detto questo non perdiamo altro tempo, tuffiamoci in questo Gran Premio del Brasile all'autodromo, José Jean, forse ha cambiato nome, si chiama al momento Autodromo José Carlos Pass, mentre qui è segnalato come José Jean Pass comunque Brasil Grand Prix. Andiamo a impostare gli obiettivi prestazionali per questo fine settimana, forse abbiamo la possibilità di gestirci un Q3, di riuscire ad arrivare ad un Q3, comunque per il Q2 io direi di andare con entrambe le vetture, visto che è stato piuttosto semplice riuscire a qualificarci per il Q2 con entrambe le vetture. Posizione in qualifica secondo me possiamo puntare a una P13, tredicesima posizione con entrambe le vetture perlomeno in qualifica, forse non ho aggiornato, si ho aggiornato, mentre per gli obiettivi di gara giro più veloce potremmo anche raggiungerlo volendo, sarebbero 202 mila dollari in più, possiamo pensare magari a fine gara di provare, di tentare, perché nel caso perdiamo solo 50 mila dollari, quindi direi di aggiungerlo, nel caso proveremo a montare la gomma rossa alla fine della gara, come nella scorsa gara, per provare a conquistare anche quel obiettivo. Impostati gli obiettivi, scendiamo in pista per l'inizio del weekend della Brasil Grand Prix. L'atmosfera del carnevale ha già invaso le strade di San Paolo e il Brasile si prepara a vivere un nuovo Gran Premio. Da decenni l'autodromo José Carlos Paz è un'icona per tutti gli appassionati dei motori e presto sarà teatro di una nuova battaglia tra piloti senza pari. Il tracciato di San Paolo è splendidamente progettato per mettere alla prova tanto le squadre quanto i piloti. Con le chicane di media velocità, le salite e la sezione veloce dopo la Jun Sao, per domare questo tracciato, un assetto bilanciato è quello che serve. Anche se la stagione è appena iniziata, le emozioni non danno un attimo di respiro. In questa fase non c'è ancora nulla di certo e tutto può accadere. Rimanete con noi, perché stiamo per iniziare! Ed eccoci pronti per l'inizio di questo weekend. Il sabato è prevista pioggia intensa. Proseguiamo e andiamo subito ad impostare il setup delle nostre vetture. Impostato il setup di entrambe le vetture, scendiamo in pista per l'inizio del venerdì di prove libere. Subito in pista con Pierluigi Martini davanti al compagno di squadra Gianni Morbidelli. Scendono in pista le nostre due minardi. Noi come sempre ci rivediamo direttamente per l'inizio del sabato di qualifiche. Ci siamo, siamo pronti per l'inizio del sabato di qualifiche che sarà sotto la pioggia, perché la pioggia non si è presentata nelle FP3. Andiamo nei risultati delle prove libere, FP o PL naturalmente in italiano. Prove libere in uno con Senna Mansell Patrese, con Pierluigi Martini in ottava e Gianni Morbidelli in tredicesima. PL2 in cui sono successi tantissimi incidenti. In uno è stato coinvolto anche Morbidelli che purtroppo si è classificato in ventesima posizione, ha fatto 16 giri, non è riuscito a sviluppare al meglio la vettura durante le PL, soprattutto durante le PL2 appunto. e guardate la sfilza di penalità, è stato purtroppo anche Morbidelli coinvolto in un incidente causato da un altro pilota. Comunque Senna Mansell e Berger con Martini in decima e come detto Morbidelli in ventesima, PL3 Senna Patrese e Mansell con Martini in decima e Morbidelli in diciannovesima. Ha girato molto a lungo 46 giri per il nostro secondo pilota. Proseguiamo. Per quanto riguarda gli assetti, avevamo un assetto al 97%, abbiamo provato a ritoccarlo, quello di Pierluigi Martini dovremmo essere riusciti a raggiungere una migliore percentuale, forse 100%, mentre per quanto riguarda Gianni Morbidelli siamo al 95%, proviamo a migliorarlo leggermente. Proviamo questo assetto con Gianni Morbidelli e ora andiamo a montare i componenti un po' più nuovi, perché non sono ancora convinto se con i componenti che vengono segnati gialli, quindi teoricamente usurati e si ha la stessa prestazione, quindi fin tanto che ne abbiamo andiamo a montare i componenti nuovi e poi gomma intermedia, ciò vuol dire che quindi si presenterà la pioggia già a partire dalle prime qualifiche. Montiamo la seconda unità motore, il secondo RS e il secondo cambio con il nostro Pierluigi Martini. Torniamo indietro a setti modificati, possiamo scendere in pista per l'avvio delle nostre qualifiche 1. Radiocheck completato con Morbidelli, scendiamo subito in pista, però prima diamo un'occhiata al meteo, perché no, sta per smettere la pioggia, la pioggia sta per finire, quindi a questo punto aspettiamo e pronti a scendere in pista rainfall, questo non è stato modificato, non è stato diciamo così tradotto in italiano. Comunque, per quanto ci riguarda andiamo a montare la gomma rossa a questo punto e aspettiamo che la pioggia si diradi per scendere in pista, probabilmente scenderemo in pista direttamente al termine della sessione. Mancano 4 minuti e mezzo al termine della sessione e ora la pioggia si è diradata abbastanza per poter montare le gomme da asciutto, ma dobbiamo aspettare proprio l'ultimo istante. Scenderemo in pista 2 secondi e mezzo dal termine della sessione, si sta girando comunque in 1.11 con gomme intermedia, quindi possiamo scendere tranquillamente tra i 2 minuti e mezzo e i 2 minuti dal termine della sessione per cercare di trovare la pista nelle migliori condizioni possibili. 2 minuti e 10 al termine della sessione, mandiamo in pista Gianni Morbidelli, siamo alle spalle di un po' di vetture, scende in pista Gianni Morbidelli, aspettiamo un po' con Pierluigi Martini perché voglio dare spazio, però dobbiamo anche rischiarcela, dobbiamo un po' rischiarcela perché rischiamo davvero di trovare tantissimo traffico. speriamo bene perché noi non abbiamo un giro, quindi dobbiamo portare a casa a termine il giro in questo tentativo per forza. Bloccaggio di Coma con Morbidelli che sta andando a chiudere il suo giro, ovviamente verde in entrambi i settori, va a chiudere in settima al momento con Pierluigi Martini che è alle spalle di un'altra vettura, spero non sia stato rallentato in undicesima Martini, quindi alle spalle del compagno di squadra, attenzione a tutti coloro che devono terminare il loro giro e sono alle nostre spalle perché Martini in quattordicesima sta rischiando tantissimo. Martini in quindicesima, se migliorano le vetture sì Martini è eliminato, Martini è eliminato, solo Cappelli ha fatto peggio di lui. E Herbert, Martini in diciottesima, con Morbidelli che si qualifica in quindicesima, non è assolutamente andata la nostra strategia, Pierluigi Martini parte in diciottesima posizione, non me lo aspettavo sinceramente, speravo di aver azzeccato il giro, saremmo dovuti uscire anche con la gomma intermedia a fare un giro a questo punto, perché ha incontrato traffico secondo me il nostro pilota, tutti molto vicini, tutti molto molto vicini, a parte Ayrton Senna che fa un altro sport, tutti molto vicini, solo Gianni Morbidelli qualificato. Pronti a scendere in pista per l'inizio della Q2, montiamo gomma rossa, setto fiducia 95%, quindi non è migliorato per Gianni Morbidelli, 100% per Pierluigi Martini, che purtroppo avrà tanto da recuperare. Avviamo il nostro Q2, scendiamo in pista, cerchiamo di qualificare il più in alto possibile il nostro Gianni Morbidelli, per lui gomma rossa nuova, montata, vediamo il meteo, cosa dice, non c'è pioggia, quindi andiamo a montare la gomma usata, perché secondo me con Gianni Morbidelli possiamo pensare di qualificarci anche nel Q3, non essendo presente il suo compagno di squadra. Morbidelli va a chiudere il suo giro, lo chiude alle spalle di De Cesaris di 286 millesimi, con la gomma usata, vediamo se riuscirà a migliorare abbastanza con la gomma più nuova, con la pista che pian piano sta andando a migliorare. Sono scesi tutti in pista, Morbidelli in tredicesima posizione, l'ultima posizione in pista per Morbidelli, alle spalle di una Ferrari, voglio pista libera per cercare di migliorare, perché siamo vicini comunque alla top 10, occupata in questo momento da Modena, a 1,135 millesimi da Senna, noi siamo a 1,258, sono tutti molto vicini, vediamo se Gianni Morbidelli riesce a qualificarsi per il Q3. Purtroppo bloccaggio per Morbidelli sia nel giro di lancio che nel suo giro di qualifica non ha migliorato nel secondo settore, anzi molto peggio, quindi non si andrà a migliorare, Morbidelli conferma la sua tredicesima piazza qualifiche da incubo per noi qui in Brasile. Eliminato anche Gianni Morbidelli in tredicesima posizione, peccato perché ci sono tanti piloti con penalità, quindi Morbidelli recupererà posizioni, ma potevamo partire molto più in alto, veramente molto più in alto, soprattutto con Pierluigi Martini. Eliminati quindi Boutsen, Gascio, Morbidelli, Gugermine e Hachinen con gli eliminati del Q1, Nakajima, Kuma, Martini, Ivan Capelli e Gianni Herbert. Proseguiamo e scendiamo in pista per l'inizio della domenica di gara. Il gran giorno è arrivato! Prepariamoci a una nuova gara all'insegna dello spettacolo! Prestazione di buon livello nelle qualifiche per la Mercedes, che ora ha la possibilità di mirare a un buon piazzamento in gara. La prestazione della Red Bull nelle sessioni di qualifica fa ben sperare. Riuscirà a esprimere il suo vero potenziale prima della bandiera a scacchi? La gara di oggi si terrà sotto un cielo azzurro. Le squadre potranno quindi mettere in atto le loro strategie senza temere complicazioni esterne. Qui a San Paolo fare previsioni è davvero impossibile. Sui suoi temuti saliscendi può accadere di tutto. Sono un po' negativo per questa gara, per come sono andate le qualifiche. Comunque proseguiamo e andiamo a vedere subito le nostre vetture. Andiamo a caricare un po' il carburante perché dovremmo spingere sicuramente sul carburante per cercare di recuperare delle posizioni, quasi quasi anzi dire di metterne tanto in più perché voglio spingere quanto più possibile anche se avremo più usura sulle gomme. Sicuramente sarà una strategia a due soste perché l'abbiamo visto che le gomme si consumano tanto. Durante le prove libere andiamo a spingere al massimo. Nei primissimi giri andiamo giusto in aggressivo, anzi no, spingiamo al massimo, consumiamo le gomme, poi ci penseremo. Potrebbe essere due soste, potrebbe essere addirittura tre soste. Qua ci segna due soste, media media hard. Secondo me non basterà questa strategia perché comunque anche le medie hanno dimostrato di consumarsi tanto. Io direi quasi quasi di provare una strategia medie, sì la prima, la strategia A, e poi valutiamo se cambiare qualcosa. Però proviamo con questa strategia le gomme morbide nei primi stint e ricordiamoci che abbiamo anche delle gomme soft che potremo utilizzare magari nella parte finale della gara sulla base anche di dove ci troveremo in pista. Abbiamo scelto quella che è la nostra strategia, speriamo bene, speriamo di riuscire a rifarci dopo queste brutte qualifiche con Morvidelli che comunque parte in undicesima e Martini che guadagna una posizione e parte in diciassettesima. Speriamo in una bella partenza. Scendiamo in griglia di partenza per l'inizio del San Paolo Grand Prix. Il sole continua a splendere, sembra che nulla possa rovinare l'entusiasmo che si respira in pista. Diamo un breve sguardo alla Mercedes. Se vuole risalire dalle ultime dieci posizioni servirà un piccolo miracolo. Questa è l'altra Mercedes. Oggi partirà dalle retrovie dello schieramento, dovrà superare molte auto per arrivare al podio. Raccoglieranno il frutto dei loro sforzi? E ora pronti per il Gran Premio di San Paolo! Bandiera verde, cinque luci con Senne in pole. Penso davanti a Manse, si spengono le luci, parte il Gran Premio. Andiamo subito con Morvidelli che ha perso subito una posizione ad opera di Boutsen che si è infilato all'esterno. Vediamo se riesce a resistere Morvidelli. Credo che ce la possa fare. Sembra che ce la possa fare Morvidelli, però Boutsen stavolta si prende la posizione e deve mollarla. Con Martini che invece ne ha guadagnato una i danni dell'altra Ligier, se non sbaglio, di Coma. Dovrebbero essere le Ligier. Bravo Martini a prendersi la sedicesima posizione. Andiamo subito in standard. Non voglio consumare troppo le nostre gomme. Spingiamo sul carburante. Morvidelli sotto pressione addirittura. Da un'altra vettura, dalla Leighton House di Gugelmin, però per ora riesce a difendersi. Vediamo ora, in queste curve molto strette, non sarà facile prenderci le posizioni che ci servono per provare a rientrare in lotta per i punti, però sappiamo che in questa mod può succedere veramente di tutto. Possiamo facilmente vedere tante vetture fuori dalla gara. Martini ci sta provando a prendersi la posizione. Purtroppo ha dovuto rallentare, ha provato nei confronti di Mika Akkinen, ma non è riuscito a prendersi la posizione. Vediamo se riusciremo anche grazie alla strategia a prenderci delle posizioni nei confronti degli altri piloti. Però vedete, 96% già le gomme, sarà un consumo molto elevato. 95% le gomme, 5% a giro. Le medie vuol dire che il consumo sarà molto elevato. Potremmo addirittura passare ad una strategia a tre soste. Morbidelli si è preso l'undicesima, ma settore 1 bandiera gialla. Non vorrei che ci sia stato già un incidente. Testa coda di Boutzen, andiamo a vederlo. Ok, qui vediamo l'Alpine. Sì, qui è dove va in testa coda. Benissimo, ci prendiamo così la posizione sulla Ligie di Boutzen, che dovrebbe essere la nostra lotta per ora. Quella con l'Alice e Morbidelli risale in undicesima posizione. Con Martini che risale in quindicesima e sta provando a prendere la scede di Achinen, che però è molto molto minaccioso nei confronti di Gachaud. Andiamo a vedere le prime posizioni. Senna ha già preso un po' di vantaggio nei confronti di Mansell e Prost. Poi Berger, Patrese e Alesi. Questi sei hanno già creato un po' di distacco nei confronti delle Benetton di Piquet e Moreno, che sembrano nettamente la quarta forza. Sembrano poter fare gara a sé. Però tutti questi piloti sono fuori dalla zona punti. Quindi per ora la zona punti è monopolizzata dalla McLaren, dalla Williams e dalle Ferrari. Traiettoria larga per Morbidelli, che sbaglia completamente la curva ed è in diciannovesima posizione davanti a Herbert. Andiamo a vedere l'errore di Gianni. Qui possiamo vedere la Mercedes. Va a largo, del tutto fuori traiettoria. Brutto errore di Gianni Morbidelli. Due errori in due gare. Questo già mi sta facendo pensare a qualche movimento nel mercato. Tra i due, pensavo di tenere più Gianni Morbidelli, perché ha 23 anni e può crescere. Però allo stesso tempo Pierluigi Martini ancora non ha fatto errori, mentre Gianni Morbidelli purtroppo ne sta portando tanti a casa. Quindi potremmo pensare di prendere un gran pilota al fianco di Pierluigi Martini. Ci saranno tante valutazioni da fare. Potremmo fare qualche movimento, anche prima di metà stagione. Perché comunque era usuale nel 1991 cambiare facilmente i piloti. Tant'è che Michael Schumacher ha esordito molto presto nel 1991. C'è stato un bloccaggio di Gugelmin davanti a noi. Andiamo a vederlo. Rivediamola. È coinvolto il pilota dell'Alfa Tau. Ha bloccato le ruote. Di sicuro non ne sarà felice. Gugelmin era proprio in lotta con Morbidelli, prima che Morbidelli facesse l'errore. Quindi Martini è salito in tredicesima posizione con Gugelmini in ultima posizione. E Martini pian piano si avvicina alle posizioni di Hachinen e Gachaud. Si stanno autoeliminando i piloti davanti a noi con Morbidelli. È molto probabile che dovremmo completamente cambiare la nostra strategia. Finalmente Pierluigi Martini ha sopravvanzato a Hachinen, che non so se abbia fatto un errore. No, sorpasso di Martini su Hachinen. Qui possiamo vedere la Mercedes. E va al sorpasso guadagnando una posizione in gara. Hachinen ha allargato la traiettoria dopo la lotta con Gachaud. Ne ha approvittato Martini, che si prende la dodicesima e ora proverà l'attacco nei confronti di Gachaud. Vediamo se riesce ad uscire forte, perché ora può sfruttare anche la scia Gachaud. Non ha scia di altri piloti, vediamolo all'esterno Martini. Ci manca sempre un po' di velocità di punta, ma forse ce la può fare. Lo affianca, vediamo se stacca forte Pierluigi Martini. Si troverà ora all'interno, nella seconda parte della S2 Senna e riesce forse a portare a termine l'attacco. Gachaud prova a rinfilarsi. Vediamo chi ha la meglio. Qui in fondo, al dritto, il vantaggio di traiettoria lo ha Gachaud, ma sembriamo leggermente più veloci e Martini si prende l'undicesima. Vediamo se ora avrà il passo per riuscire a rimontare nei confronti di Modena. Ma c'è da dire che abbiamo una gomma molto più consumata. I piloti davanti a noi gestiscono molto meglio la loro gomma. Io rimango comunque in standard, perché non mi interessa gestire. Cerchiamo di arrivare all'incirca al ventesimo giro con questa gomma per poi montare un altro treno di gomme gialle se vogliamo provare fino alla fine a portare avanti una strategia a due soste. Primi pistop alle nostre spalle, Nakajime e Akinen con Martini che è sempre in lotta con Gachaud. Abbiamo fatto il vuoto alle nostre spalle, abbiamo anche recuperato forse qualcosina nei confronti di Modena con Martini che sta spingendo tanto. Tra un giro apre la sua finestra di sosta ed è quello che voglio fare, proprio fermarmi al ventesimo, ventunesimo giro per montare un altro treno di gomme gialle. Morbidelli si trova alle spalle di Ivan Capelli, di Bouzen e di Coma con Morbidelli. Il nostro obiettivo a questo punto è di passare le due ligie. Cerchiamo per quanto possibile di spingere. Ci fermeremo nel giro successivo, anzi forse nel ventesimo. Ci fermiamo con Martini al ventunesimo. Andiamo all'attacco massimo con Morbidelli. Vediamo se riesce a portare avanti l'attacco, a portare a termine un attacco nei confronti di Ivan Capelli prendendo tutta la scia qua nel rittilineo principale. ingresso finestra di sosta con Morbidelli al ventesimo giro, anzi è iniziato il diciannovesimo. Eccolo Morbidelli che ci prova. Vediamo se tenta la staccatone all'esterno. Ivan Capelli comunque copre, ma va lungo. È andato lunghissimo Ivan Capelli. È andato lunghissimo Ivan Capelli. Andiamo a vedere opzioni box. Ci fermiamo alla fine del giro con Morbidelli e direi di andare sì a montare la gomma media. Boxing the Slap con il nostro pilota in quindicesimo. Andiamo a vedere il bloccaggio di Ivan Capelli. Ha cercato di forzare la staccata con la sua Leighton House e guadagna la posizione Morbidelli che si andrà a fermare alla fine del giro con Martini che continua ad essere alle spalle di Gachaud. Nel prossimo giro andrà al massimo attacco per effettuare il suo pit stop. Ed eccolo Martini. Andiamo a farlo spingere al massimo. Sta iniziando l'ultimo giro di questo stint. Rientra Gachaud, quindi pista libera per lui. Proverà un overcut. Il nostro Pierluigi Martini va a montare la gomma media con Morbidelli che si sta andando a fermare. Due secondi a otto. Non male il pit stop di Morbidelli che rientrerà presumibilmente in diciottesima posizione alle spalle proprio di Gachaud. Vediamo se riesce a guadagnare qualche posizione il nostro pilota. ai box Gachaud che sta uscendo appunto dai box. Arriva anche Morbidelli. Sta arrivando Nakajima. Forse Morbidelli in ventesima addirittura. Alle spalle anche di Hakkinen. Ci sta ma gli ha guadagnato veramente tanto. Ha guadagnato veramente tanto Morbidelli. Andiamo subito in standard sulla sua gomma. La gestiamo con Martini che invece si sta avviando all'ultima parte del giro. Rientra Pierluigi Martini per il suo pit stop. Alle spalle di Patrese, Alessi, Modena, Moreno. E alle sue spalle anche Coma. Speriamo di non venire rallentati dal pit stop, dal passaggio di altri piloti. Un po' lento. Due secondi e nove. Non un decimo soltanto più lento rispetto a quello di Morbidelli. Morbidelli che sta cercando di riavvicinarsi ad Hakkinen. È molto vicino ad Hakkinen. Anzi incollato ad Hakkinen. Speriamo riesca a prendersi la posizione. Martini esce dai box. Andiamo a vedere Morbidelli se ci prova qui in fondo. Nei confronti di Hakkinen non ce la fa. Forse ce la può fare nel prossimo rettilineo. Con Martini che riesce ad uscire quasi davanti a Gachaud. In lotta con Gachaud. E davanti forse. No, forse dietro. Forse dietro Gachaud con Morbidelli che non riesce ad affondare il colpo. Forse sì. Forse sì all'interno ora in staccata. Morbidelli si prende la posizione nei confronti di Mika Hakkinen. Continuiamo a spingere con Martini che purtroppo è alle spalle di Gachaud. Siamo sempre a 6 secondi e mezzo da Modena. Quindi non abbiamo recuperato tanto. Martini è da solo. Bloccaggio di Gachaud in curva 11. Eravamo comunque già da soli. Martini se n'era già andato e sta provando ad accorciare nei confronti delle due Benetton. Morbidelli è risalito in dodicesima alle spalle del compagno di squadra. Sto pensando ad una strategia alternativa. Tre soste montando due treni di soft alla fine della gara. Perché se continuiamo così non so se possiamo riuscire a rimontare nei confronti dei piloti là davanti. Morbidelli intanto sotto pressione da Nakajime e Hakkinen ci sta tutto. Ma sto pensando ad una strategia alternativa. Non so se possa essere facile riuscire a recuperare così tanto tempo nei confronti dei piloti che monteranno la hard. Però secondo me sì perché il pit stop è intorno al quarantesimo, quarantaduesimo giro. Secondo me possiamo fare 15 giri con tutti i treni di soft. Con due treni di soft. E pensare di rimontare. Ci vorrei quasi quasi provare con entrambi i nostri piloti. Perché tanto la zona punti la vediamo col binocolo. Traiettoria larga per Martini che forse ha perso qualcosina. Fortunatamente nessun incidente per lui. Aveva anche guadagnato abbastanza nei confronti delle Benetton. con lievi danni al sottoscocca. Per Martini andiamo a vedere il suo lungo. Peccato ma ci sta. Sta spingendo per provare a recuperare i piloti là davanti. A questo punto ancora di più. Proveremmo una strategia alternativa. Non ha perso praticamente nulla. Però purtroppo ora con lievi danni al sottoscocca. Sicuramente sarà una gara ancora più complicata. Ho paura di De Cesaris in settima posizione della tirale di Modena in ottava. Perché se dovesse succedere qualcosa le vetture là davanti. Un conto è se va punti la Benetton che sappiamo che è più forte di noi. Ma una vettura come la... È De Cesaris. Stavo parlando di De Cesaris. È successo qualcosa a De Cesaris che è andato lungo. È andato. Out dalla gara. C'è stato un incidente. Una sola auto coinvolta. Vediamo cos'è successo. Diamo un'occhiata. Questa era l'Aston Martin. E questo è l'incidente. Scusatemi ma mi viene da ridere. Non è possibile. È stata una cosa istantanea. Istantanea. Stavo parlando di De Cesaris. De Cesaris fuori dalla gara. Martini in decima. Morbidelli in undicesima. L'ho chiamata. Questo sarà un bel video breve. Un bello short questo. Comunque. Modena in settima. Quindi comunque la Tyrrell. Se dovesse succedere qualcosa a qualcuno là davanti. Arriverà. Potrebbe arrivare in zona punti. Preferirei che arrivasse in zona punti la Benetton. Che sappiamo che è più forte di noi. Dobbiamo comunque pensare di cambiare la nostra strategia. Se vogliamo provare ad accorciare là davanti. Modena in testa a coda. Rivediamo cos'è successo. Rivediamola. L'Alfa Romeo è rimasta coinvolta. Che testa a coda. Stavolta Alonso non c'entra. Martini in decima. Morbidelli in undicesima. Sempre in lotta con Nakajima. L'altra Tyrrell. E Akinen. Con Morbidelli ci fermeremo presto. Morbidelli risalito in undicesima. Era in lotta appunto. Quindi Modena comunque davanti a Martini. Chissà che Martini non riesca a raggiungere il pilota davanti a sé. Ci proveremo naturalmente con la strategia alternativa. Siamo nell'ultima parte del circuito. con Morbidelli. Quarantesimo giro. Finestra box. Trova un giro per lui. Lo fermiamo un giro prima. E montiamo la hard box in dislap. Per lui ha rallentato tantissima per un doppiaggio. Il doppiaggio di Senna. Quindi ora deve riprendersi. Si fermerà alla fine del giro. Equilibrata per lui sul carburante. Andiamo in standard sulla gomma. Anzi addirittura in leggero. Perché dovremmo gestire in parte questa gomma bianca. Mentre Martini in decima posizione va ad effettuare l'ultimo giro del suo stint. Va a spingere al massimo. E andiamo in high box per montare il primo dei due treni di gomme soft. Proviamo questa strategia alternativa. 3 secondi il pit stop di Morbidelli. Non velocissimo. 17esima posizione per Morbidelli. Sperando che abbia un buon passo con la sua gomma bianca. Che la gestisca abbastanza bene per arrivare fino in fondo. 30 giri per lui con la bianca. Si troverà in 18esima posizione. Alle spalle di Ivan Capelli. Davanti comunque a Johnny Herbert. E ora lo facciamo spingere al massimo sul carburante. Molto probabile che rientra comunque in lotta con Nakajima e Akinen. Mentre Martini sta spingendo al massimo. Finestra box attiva per lui. Box in dislap. E andiamo con lui in standard. E andiamo a gestire anche il carburante in questa fase finale del giro. E si va a fermare per il suo pit stop. Il suo secondo e non ultimo pit stop. Due secondi e nove. Come quello precedente. Praticamente il suo pit stop. Vediamo in che posizione rientra. Penso alle spalle sia di Boutsen che di Gashaw. Forse riesce davanti a Gashaw. Vediamo quanto è veloce nel rientro. No, forse anche davanti a Boutsen. Vediamo, no? Boutsen è passato. E forse anche Gashaw. No, Gashaw no. Gashaw è lì. Ma è comunque davanti a Gashaw. E ora si spinge al massimo con la gomma rossa. Dobbiamo cercare di spingere al massimo. Di passare Boutsen. E di recuperare quanto possibile. Ho fatto questa mossa comunque perché Morbidelli teoricamente se riesce a mantenere la sua posizione. Se riesce a mantenere la posizione nei confronti di Nakajime e Akinen coprirà la posizione che era occupata da Martini se non dovesse andare bene la nostra strategia con la gomma rossa. Dobbiamo andare comunque in leggero perché secondo me il consumo sulla rossa è molto alto. Vedremo. Vedremo se la nostra strategia andrà a buon termine. Sarà una buona strategia. Senna intanto rientra in box ma è ampiamente davanti a noi. Attenzione settore 1 bandiera gialla. C'è successo qualcosa. Mansell fuori dalla gara. Mansell fuori dalla gara. Quindi chi è in settima posizione passa in sesta. Andiamo a vedere l'incidente di Mansell. Qui possiamo vedere la Williams. Per fortuna nessun altro è rimasto coinvolto. Che brutta botta. Curva 1 per il pilota della Williams. Intanto Martini ha passato picchè. Sta cercando di passare Coman a Kajima ai box. Akinen ai box. Loro montennano penso gomma media per arrivare fino in fondo. Strategia inversa rispetto a Morbidelli che sta comunque gestendo abbastanza bene la sua gomma. Andiamo in equilibrata con Morbidelli. Vediamo con quanto vantaggio riuscirà a rientrare rispetto ai piloti che erano in lotta con lui. Martini risale in decima deve cercare il sorpasso nei confronti di Coman e Gugelmin che li stanno un po' creando dei problemi. Al 56esimo giro ci fermeremo con Martini per montare il secondo treno di gomme rosse. Non so se sarà abbastanza per riuscire a rimontare sulla zona punti. Però perlomeno abbiamo provato a fare qualcosa. A vedere quanto può essere importante montare una gomma rossa contro una gomma bianca magari più usurata. Morbidelli ha un netto vantaggio nei confronti di Nakajime e Akinen. 10 secondi di vantaggio. Speriamo che la nostra gomma bianca regga bene. Martini purtroppo non riesce ad effettuare il sorpasso nei confronti di Coman e Gugelmin e quindi sta perdendo molto molto tempo in questo momento. Martini in ottava posizione alle spalle di Modena purtroppo. E di Piquet e Moreno alle sue spalle. Grave sul riscaldamento degli pneumatici. Noi ci dobbiamo fermare e sperare che la gomma rossa riesca a recuperare questi piloti contro una bianca che è sicuramente molto usurata. Forse qualcuno ha la gialla. Moreno e Modena hanno la gialla. Quindi Modena ha un grosso vantaggio in questo momento. Andiamo a seguire il pit stop di Martini che sta provando a rallentare un po' Moreno. Spero che non abbiano un gran passo che possa Martini riuscire pian piano a rimontare in questi 15 giri. Dovremmo gestire molto bene la nostra gomma. Ma purtroppo dovremmo effettuare anche tanti sorpassi perché presuppongo che rientreremo alle spalle di Akkinen probabilmente. Di Akkinen o di Gugelmin. Forse di Akkinen. Pit stop in 2-3 secondi. Il più lento di giornata per Martini. Passato da Nakajima. Sta arrivando Akkinen. Andiamo a vedere se riesce perlomeno a stare davanti a Gugelmin. Sarebbe fondamentale riuscire a effettuare quanti meno sorpassi possibili. Martini davanti a questo gruppo. Deve finire davanti a questo gruppo purtroppo. Non davanti al gruppo. O forse sì perché sono dei doppiati questi. Cioè sono dei doppiaggi. Andiamo in... Purtroppo sì. Sono vetture che dobbiamo lasciare passare. Facciamo passare una McLaren. McLaren e spero che non ci rallentino troppo. Spero che non ci rallentino troppo e spero di poter sfruttare queste vetture per riuscire a rimontare davanti. C'è stato qualcosa dietro. Ho visto una bandiera gialla, un avversario che ha allargato la traiettoria. Comunque Morbidelli è risalito in nona posizione però a 6 secondi e mezzo da Moreno. Quindi molto lontano. E Gugelmin mi sembrava alle nostre spalle. Ha allargato la traiettoria e ha perso qualche posizione. Vediamo se con Martini riusciamo a recuperare qualche posizione. Martini è risalito in undicesima. Nakajima ha avuto un bloccaggio in curva 3. Quindi questo ci aiuta a recuperare qualche posizione. Ha esagerato. Ruote bloccate. Va lungo e perde tantissime posizioni perché poi si ferma e aspetta che le altre vetture passino. Quindi Martini in undicesima sta rimontando nei confronti di Ackinen e poi cercherà di rimontare nei confronti di Morbidelli ma è veramente tanto. La sua lotta sarà con il compagno di squadra per cercare di conquistare la nona posizione. Spero soltanto che sia una Benetton a conquistare quel sesto posto con Moreno che ha passato Modena. Sono in lotta tra di loro. Spero che sia una Benetton per non dare un punto che sarebbe fondamentale per la Tirrel. Blocco pneumatici per Martini. Che va a muro. È ritirato. Ritiro per Martini. Penso che questo sia ritiro per Martini. Out dalla gara. Stava raggiungendo il suo compagno di squadra. Qui possiamo vedere la Mercedes. Qualcosa è andato davvero molto storto. Bloccaggio dell'anteriore destra per il nostro pilota. Quindi Martini fuori dalla gara. Non cambia nulla perché non saremmo arrivati a punti. Morbidelli lascia passare Berger e Prost che sono in lotta tra di loro. Comunque mantiene la nuova posizione. Dobbiamo semplicemente portare la nostra vettura in fondo. Perché siamo a 15 secondi da piqué. Quindi impossibile pensare di raggiungere la zona punti. Sto pensando che non cambia nulla. Quindi a questo punto andiamo in attacco con Morbidelli. Andiamo a montare. Rientriamo ai box. Perderemo posizioni. Ma entriamo. Montiamo la gomma soft. E cerchiamo il giro veloce della gara. Per almeno centrare il nostro obiettivo del giro veloce. Vuol dire 250.000 dollari in più per noi. Perché anziché perderne 50.000. Andiamo a prenderne. A guadagnarne 200.000. Non ci cambia nulla. Terminare in nona. In undicesima, dodicesima posizione. Dobbiamo puntare in altre gare. A conquistare dei punti. Quindi rientriamo con Morbidelli. Morbidelli. E poi nell'ultimo giro cerchiamo il giro veloce della gara. Attenzione. Allarcato troppo. Senna allarga la traiettoria. Morbidelli ai box. Tredicesima posizione per lui. Probabilmente sarà alle spalle anche di Boutsen. E di una Ferrari, presuppongo. Che sta arrivando a doppiare. Vediamo se ci prendiamo subito la posizione nei confronti di Boutsen. Al prossimo giro. È iniziato il giro. Penso 69 per Morbidelli. Penso che sia doppiato. Quindi deve effettuare il giro veloce subito nel prossimo giro. Perché sarà l'ultimo giro della sua gara. Penso che stia terminando la gara. Morbidelli purtroppo ha fatto il primo settore Fuchs e il secondo giallo. Non so se si prenderà il giro veloce della gara. Forse no. Noi inizia però l'ultimo giro. Forse abbiamo un'altra possibilità con Morbidelli di andare ad effettuare il giro veloce. Mentre Senna va a vincere la seconda gara della sua stagione. Prova addirittura a sdoppiarsi nei confronti della Ferrari. Sorpasso di Morbidelli nei confronti di Bozen. Spero che non debba rallentare per lasciare spazio alla Ferrari. Vittoria per Senna. Primo posto per la McLaren. Davvero incredibile. Ho la sensazione che si parlerà a lungo di questa gara. È sicuro. Tutto liscio per la Mercedes. Il loro pilota non ha affatto sfigurato. La Mercedes ha un grande potenziale. Non ci sono dubbi. Ora deve solo trovare il modo migliore di metterlo a frutto. È una squadra solida e i problemi evidenziati sono alla loro portata. Speriamo di vedere presto dei risultati migliori. La squadra è al sesto posto della classifica costruttori dopo questo weekend. La stagione di Formula 1 si avvia alla conclusione. Vi aspettiamo ad Abu Dhabi. Tra il deserto e il mare. Per un finale davvero indimenticabile. Naturalmente ciò che dice non è il calendario di questa carriera. Comunque Senna vince il Gran Premio di casa davanti a Patrese e Berger. Morbidelli alla fine è riuscito a prendersi il giro veloce nel ultimo giro di gara. A completare la zona punti Prostalesi e Moreno fortunatamente si prende il punto per la Benetton che sale a 2. Poi Modena, Piqué, Gugelmin, Akinen, Kumana, Kajima, Morbidelli, Boutzen, Gasho, Capelli e Herbert. E poi Martini, Mansell e De Cesaris fuori dalla gara. Classifica piloti con Senna a pieni punti. Patrese in seconda posizione a quota 10 punti e Mansell in terza con Alain Prost a quota 6. Martini in decima posizione e il nostro Gianni Morbidelli solo diciannovesimo a causa dello schianto nel primo Gran Premio. McLaren prima a quota 24, Williams seconda a quota 16, Ferrari quota 10, Benetton a quota 2 e poi Tirrell in quinta posizione a quota 0. Però grazie al posizionamento in gara si trova in quinta posizione e la nostra Minardi scende in sesta posizione. Ed eccoci alla nostra dashboard Emilia-Romagna Grand Prix tra 46 giorni. Andiamo a vedere l'e-mail, una gara difficile giustamente. Per noi dobbiamo valutare la situazione dei nostri piloti ma per ora aspettiamo le modifiche, i nuovi progetti alla nostra vettura per cercare di migliorare appunto la nostra Minardi prima di pensare a qualche modifica dal punto di vista dei piloti. Anche se sinceramente sto già pensando di poter prendere qualcuno come pilota di riserva magari da poi pensare di mettere su una delle due vetture. Comunque proseguiamo per ora nel nostro calendario. Ed ecco lo primo progetto completato, l'alettone anteriore che andiamo subito a costruire. Verifica, fiducia, consiglio che non ci interessa al momento. Produci l'alettone, andiamo a produrre ovviamente 6 alettoni anteriori perché ci servono assolutamente. Arriveranno in 20 giorni meno 600 mila dollari, una bella spesa per noi, scendiamo a 2 milioni e 2. Ma andiamo subito allo sviluppo di un nuovo progetto e probabilmente andremo con un nuovo telaio. Direi di andare a migliorare con un nuovo telaio. In linea generale la nostra vettura è più scarsa in bassa velocità che in media e alta velocità. Quindi dobbiamo cercare di migliorare da quel punto di vista. Preset andiamo con equilibrato per cercare in linea di massima di andare a migliorare quella che è l'aerodinamica della nostra vettura. Poi ci concentreremo sulla bassa velocità perché con questo si migliora più media e alta velocità. Quindi proseguiamo, andiamo con 5 ingegneri in normale, arrivare tra 22 giorni, quindi anche prima del nostro Gran Premio dell'Emilia Romagna. Ma soprattutto c'è da considerare che non possiamo andare con approccio intensivo perché spendiamo troppo. Spendiamo veramente troppo quindi andiamo con normale senza spendere troppi soldi e dobbiamo aspettare l'arrivo del prossimo progetto. Nuovi regolamenti. Abbiamo una votazione. Modifiche tecniche, modifiche di portanza a bassa velocità o modifiche di portanza ad alta velocità. Sono più puntato nelle modifiche di portanza a bassa velocità perché siamo già di basso livello sulla bassa velocità. Quindi se andiamo a modificare da quel punto di vista comunque manteniamo quello che è il nostro punto più forte, diciamo così, anche se non è proprio un punto forte. Quindi modifiche di portanza a bassa velocità significa che andremo a poggiorare più la bassa e la media velocità. Quindi confermiamo la nostra scelta. Ricerca componenti sbloccata per la prossima stagione. Al momento non andiamo a vedere questo. Voto sulle modifiche ad alta velocità. Voto favorevole. Quindi in linea generale si è accettato per l'alta velocità. Peccato. Peccato perché solo Benetton e Minardi hanno votato contrario, più sulla bassa velocità. Abbiamo completato lo scouting di due piloti. Giancarlo Fisichella, che secondo me potrebbe essere molto interessante come pilota di riserva, però ha ancora un contratto, quindi una clausola recissoria è comunque molto bassa. Al momento non andiamo a prenderlo. Comunque Giancarlo, Michele Alboreto, è un pilota italiano sempre, che non ha contratto in questo momento, teoricamente è in Prima Racing in F2. Comunque 34 anni, un 81 di overall, secondo me potrebbe essere un ottimo pilota, però lo valuteremo più in là, perché al momento non abbiamo abbastanza soldi e ci concentriamo sulla nostra vettura. Pilota emergente, Michael Schumacher, continuano a segnalarcelo, anche lui è sotto scouting, perché secondo me potrebbe essere molto molto interessante prendere Michael Schumacher, facendo finta che ancora fosse senza contratto nel 91, perché effettivamente forse l'inizio stagione era ancora senza contratto e se fosse finito i minardi cosa sarebbe potuto succedere? Proseguiamo comunque ora nel nostro calendario, progetto completato per il nuovo sottoscocca, andiamo subito a produrre questo sottoscocca, ne dobbiamo produrre 4, credo di non avere il tempo, infatti ne andiamo a produrre 3, 450 mila dollari e poi ne andremo a produrre un altro in affrettato, purtroppo le nostre finanze stanno scendendo tanto, comunque andiamo allo sviluppo dei componenti, nuovo progetto e andiamo direi a produrre un alettone posteriore, presuppongo, oppure pancia laterale, però pancia laterale è più per la velocità, quindi direi alettone posteriore, andiamo a spendere ancora un po' di ore mau e un po' di ore galleria del vento e vediamo come comportarci. Andiamo ancora una volta di preset equilibrato, perché se facciamo un preset solo per bassa velocità, anche se potrebbe essere buono concentrarci più sulla bassa velocità, visto che comunque dalla prossima stagione andremo a ritoccare l'alta, quindi sì andiamo con prestazione a bassa velocità così miglioriamo nettamente il nostro alettone, soprattutto per quelle che sono le prestazioni sui Gran Premi a bassa velocità e proseguiamo, poi ci saranno naturalmente nuovi aggiornamenti sulla nostra vettura, direi di andare normale vuol dire 42 giorni, il che vuol dire prima del Canadian Grand Prix, che però è il Gran Premio in cui ci serve una velocità di punta non indifferente, abbiamo comunque il Gran Premio sì, quindi andiamo, cambio idea, andiamo con il preset equilibrato che ci fa migliorare un po' tutto e come riepiligo naturalmente andiamo a vedere il nostro progetto, ci mette 36 giorni così perché spendiamo anche meno tempo con questo preset e ci arriverà subito dopo il Monaco Grand Prix, appena prima del Canadian Grand Prix, dovrebbe essere un ottimo miglioramento per noi, 450 mila dollari di spesa e proseguiamo ancora nel nostro calendario in attesa dell'ultimo progetto in arrivo. Progetto completato per il telaio, andiamo subito a produrlo, siamo proprio risicatissimi per quanto riguarda i fondi a nostra disposizione e purtroppo forse non possiamo permetterci di averlo per il prossimo Gran Premio, forse due, purtroppo in affrettato ne arriva uno solo di componente, ne arriva in normale, ne arriva uno, quindi potremmo pensare di farne uno in normale e uno in emergenza, in emergenza spendiamo tanto ma non troppo, quindi solo uno dei due, solo Pierluigi Martini avrà montato il nuovo telaio T2, molto probabilmente, perché ne avremo solo due a nostra disposizione, poi il prossimo aggiornamento lo porteremo anche per il nostro Gianni Morbidelli. Proseguiamo, iniziano anche i test aerodinamici, telaio, produzione completata, quindi ora dobbiamo semplicemente andare, ha iniziato il nuovo periodo ATR, quindi non ho sfruttato tutte le ore a nostra disposizione, peccato perché è passato molto tempo, andiamo subito nella nostra schermata e vediamo se abbiamo tutti i componenti a nostra disposizione. E ci siamo, siamo ai preparativi di gara pre Emilia Romagna Grand Prix, abbiamo montato i componenti che ci servono per questa gara sulle nostre vetture, purtroppo abbiamo un solo pacchetto sotto scocca per la nostra vettura di riserva, quindi due montati e uno di riserva, non abbiamo abbastanza soldi al momento per pensare di poterne costruire un altro, quindi aspetto, se dovesse servirci lo costruiremo durante il weekend di gara, perché altrimenti dovrei comunque costruirlo in emergenza, e andremo a spendere dei soldi che magari avremo potuto risparmiare. Quindi in questo momento ci comportiamo in questo modo, andiamo ad assegnare un punto sviluppo a Gianni Morbidelli e direi di darlo in controllo, controllo, visto che ha fatto tanti errori finora, mentre il nostro Marco Apicella non ha punti sviluppo, quindi possiamo tornare alla nostra dashboard e con questo episodio ragazzi abbiamo terminato. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate il vostro commento qui sotto, e ovviamente se siete nuovi sul canale io vi invito come sempre a valutare l'iscrizione e nel caso a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Io vi aspetto per il prossimo Gran Premio round numero 3, GP di Imola all'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Mi raccomando, non perdetevelo e alla prossima. Ciao Willers! Mi raccomando, non perdetevelo e alla prossima.